Compatti si può vincere e si può governare. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a meno di dieci giorni dalle elezioni regionali, è arrivata a Ravenna per la campagna elettorale. In città, spiegato come in Emilia-Romagna, l'appuntamento del 26 gennaio vada considerato un crocevia storico e come il territorio sia la locomotiva d'Italia non grazie ma nonostante il PD. Le elezioni dell'Emilia-Romagna e le elezioni della Calabria, che è un'altra regione che io considero molto importante, sono assolutamente un crocevia della storia in Italia oggi. sia per dare a questi territori una speranza e un'opportunità diversa, sia per dare una possibilità agli italiani di rivendicare il valore della democrazia e di chiedere libertà. La libertà di scegliere da chi farsi rappresentare, la libertà di scegliere quali politiche si vogliono portare avanti, la libertà di avere un Parlamento che rappresenti la volontà dei cittadini e non quella dei partiti. Meloni, che ha visitato la tomba di Dante, ha detto che Ravenna con maggiori infrastrutture potrebbe fare molto di più dal punto di vista turistico. L'Italia ha depositato una proposta di legge in vista delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri per chiedere che stavolta l'anniversario di una figura che ha disegnato i confini d'Italia 500 anni prima dell'Unità d'Italia, che è il padre della lingua italiana, che ha preso la tradizione italiana e l'ha fatta comprendere a tutti, non faccia la fine delle celebrazioni di Leonardo da Vinci. Sono finita in Francia e nessuno se ne è occupato. Grazie. 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 Grazie.